L'ultima volta nel 1977 lo vinse Beppe Saronni, poi un vuoto durato 42 anni, ma questa settimana torna il Giro ciclistico di Sicilia. Quattro tappe in altrettanti giorni per un totale di 708 chilometri tra le salite e le coste siciliane. Venerdì la tappa Caltanissetta-Ragusa, con traguardo nella città Iblea in Piazza Libertà. Il Giro di Sicilia sarà una festa di sport, di civiltà e promozione del nostro territorio. Così il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, ha presentato la tappa del 5 aprile legata alla manifestazione ciclistica pensata in grande su base triennale che prevede anche la stretta sinergia con il Giro d'Italia per il quale sono previste il prossimo anno ben tre tappe siciliane. Sul sito internet del comune di Ragusa intanto è stata pubblicata l'ordinanza dirigenziale per i provvedimenti viabilistici relativi all'evento. Piazza Libertà resterà chiusa da giovedì per il posizionamento delle truppe televisive che riprenderanno per circa 45 minuti il barocco Ibleo. Sono 100, prosegue il primo cittadino, i paesi che seguiranno l'evento televisivamente, ammirando le bellezze della nostra terra. Per l'Italia la corsa sarà trasmessa in diretta tv da Rai Sport e Eurosport e potrà essere seguita anche in diretta streaming su Rai Play e su Eurosport Player. Da ma noi, conclude Cassì, vi aspettiamo in strada.